Oggi siamo al circolo ufficiali Caio Duilio di Roma dove il Club 3M ha organizzato un evento speciale. Dal 1993 l'organizzazione riunisce le consorti dei militari della Marina in varie città italiane con la finalità di rendere più semplice l'inserimento nel locale e contesto sociale. Le attività del club sono molteplici e includono l'organizzazione di visite culturali ed eventi di beneficenza anche in favore dell'Istituto Andrea Doria. Da alcuni anni il club fa anche di più, tiene corsi di italiano e organizza occasioni di incontro a favore delle mogli degli addetti militari provenienti da tutte le parti del mondo. E proprio a questo obiettivo è dedicato l'International Day dove le rappresentanti delle addettanze delle diverse nazioni presenti a Roma hanno condiviso piatti tipici, colori e culture. La coordinatrice del gruppo straniero è attualmente bulgara. Io ho pensato che sarà molto utile sia per me che anche per tutte le altre signore di fare questo club 3M molto importante, un nostro non solo mio e per la mia famiglia ma anche per tutte le altre signore e loro famiglie. L'evento ha visto la partecipazione del capo di Stato Maggiore della Maria Militare, ammiraglio di squadra Walter Girardelli, accompagnato dalla consorte signora Giuliana Consolati, presidente onorario del club 3M. Conoscere e trasferire le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi, conoscere gli usi, i costumi, le loro tradizioni, il loro modo di vivere del personale e degli addetti navali accreditati in Italia che vengono da tutto il mondo. Sono sì collegati da un filo comune che è il filo blu che unisce tutte le marine ma portano in maniera determinata e in maniera competente e in maniera completa le loro conoscenze e le loro tradizioni. Felice dello scambio fra culture diverse anche la presidente del club 3M. Ci confrontiamo su tantissime cose con loro, sul tipo di vita che si fa nei loro paesi, quindi ci portano la loro cultura e noi cerchiamo di essere accoglienti e di fare conoscere l'Italia, anche dal punto di vista romano in questo caso, per tutto quello che può essere utile anche per una vita familiare, normale, al di fuori dell'ufficialità.